Ciao a tutti dai, il salutatore, grandissima sorpresa, grande energia, Spider-Man Uomo Ragno per voi! Un saluto a tutti i fans dell'Uomo Ragno, a tutti i cosplayer e salutiamo tutto il web e ricordiamo dove lo potete trovare La mia pagina si chiama Spider-Man Cosplayer Roma Ciao! Il salutatore Uomo Ragno, ciao!